Siamo qua in piazza Bombiano, siamo appena sopra Gaggio e Montano dove c'è la fabbrica della B.S. Planet, come vedete la squadra si sta riunendo La donna speciale, è vergine, qualche animale dovremmo averlo dentro, ieri sono stati a tracciarlo, l'abbiamo tenuto un po' sotto controllo da 15 giorni Giù verso Bologna, la battuta la faremo là, si vede in fondo, nella foschia, nella nebbia Baraldi, possiamo partire, le poste sono pronte, possiamo partire Grazie a tutti Che bestia Grazie a tutti Grazie a tutti Ce n'è 12 o 13 la seconda mandata Grazie a tutti 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 Grazie a tutti